E' il secondo appuntamento sull'arte delle donne nel novecento e dopo aver raccontato cosa era capitato durante le avanguardie storiche nel primo frangente del ventesimo secolo aperto peraltro da un ruolo riconosciuto anche dagli storici piuttosto marginale delle donne nonostante la militanza, anche la presenza comunque costante all'interno soprattutto delle ricerche dei movimenti d'avanguardia di inizio secolo, chiaramente il mondo è destinato a cambiare quando? Quando comincia a subentrare quella che noi chiameremo una sensibilità femminista. E' chiaro che noi non possiamo non collegare in qualche misura il femminismo al 68, non possiamo non collegare quel momento di grande rivoluzione sociale partita dai giovani, dagli studenti, dagli operai, dagli intellettuali per un mondo diverso, per un mondo che riuscisse ad intercettare la necessità di un cambiamento davvero forte nel proprio tempo. Da questo punto di vista le donne con una sessualità differente, le donne che sono sempre state rappresentate dall'arte. Pensate a ripercorrere la grande storia della pittura o della scultura, quante donne vediamo noi oggetto di rappresentazione sia dal punto di vista dell'elemento per così dire sacro, la madonna, la madre di Gesù nella nostra iconografia cattolica sia la donna come oggetto di sguardo da parte dell'uomo, il corpo nudo della donna, le sue forme eccetera. Ora le donne negli anni settanta usano il corpo nudo e lo usano sì ma in maniera molto oltraggiosa, molto violenta, è sempre un corpo contro, è sempre qualcosa che vuole andare in una direzione, come avrebbe detto Fabrizio De Andrè, ostinata e contraria. Sono persone coraggiose che indubbiamente da più parti del mondo, degli Stati Uniti, in Inghilterra, in Francia, in Italia, persino in quei paesi non ancora completamente disegnati nella carta geografica dell'arte contemporanea che invece saranno poi protagonisti dell'ultima rivoluzione novecentesca ovvero durante gli anni novanta. Ebbene oggi andremo a vedere sostanzialmente delle artiste che hanno lavorato chi più chi meno con il proprio corpo. La body art o la performance è certamente una delle tecniche dei linguaggi più, tra virgolette, praticati in quegli anni perché appunto dove i corpi smettono di essere rappresentati sono invece corpi agiti, sono corpi che come se l'arte fosse in qualche misura un grande teatro, una scena in cui assistere a ciò che di norma non poteva essere messo in scena la nudità, la sessualità eccetera eccetera, sono soprattutto le donne a dire dei no molto profondi rispetto a come era stata impostata la visione del corpo femminile, la visione del loro corpo dalla società maschile. I cambiamenti che sono in atto, come vi ripeto, sono legati certamente in generale al 68, quel clima culturale lì, ma certo è che il movimento femminista e in generale tutta la cultura femminile riescono a aggiungere degli elementi ulteriormente trasgressivi e ne vedremo alcuni, tra l'altro facendo un discorso che tocca più mondi, addirittura più continenti, come nel caso dell'immagine, della prima immagine che andiamo a vedere oggi e che è un'immagine di una artista diventata molto famosa anche per una ragione, chiamiamola così, sentimentale, Yoko Ono, artista giapponese in qualche modo vicina al mondo di Fluxus. Fluxus è una sorta di non avanguardia, nel senso che non ha un manifesto preciso ma soprattutto in Fluxus vale più o meno tutto, valgono le... l'utilizzo di diversi materiali, la possibilità di ragionare, fa essere artisti più che fare gli artisti, lavorare anche in maniera estremamente estemporanea, quasi improvvisata. Lei è giapponese ma conosciuta, si comincia a conoscere col suo lavoro d'artista negli Stati Uniti e in Inghilterra. Negli anni 60, alla metà degli anni 60, certamente tutti sanno che lei incontrerà John Lennon, proprio ad una sua mostra, tra l'altro, alla galleria, ad una galleria londinese. Ebbene, l'incontro inizialmente non fu certo tra i migliori, John Lennon era un working class hero, era uno che non capiva molto bene i codici dell'arte contemporanea, ma forse era insieme a suo fratello Paul McCartney, il musicista più importante del mondo. Ebbene, eccoli qua, John Lennon e Yoko Ono che dopo essersi corteggiati per un po' si sposano e fanno questo bed in, che è una specie di sit-in nel letto, contro la guerra in Vietnam e per dare una possibilità alla pace, come diceva appunto la famosa canzone di John Lennon. Guardate come sembrano entrambi dei figli dei fiori, sembrano entrambi degli hippies. John Lennon non è più il ragazzo dell'inizio degli anni 60 con i capelli a caschetto, vestito appunto come uno dei quattro baronetti, ma ha i capelli lunghi, la barba lunga, gli occhialetti tondi, si è intellettualizzato per così dire. E in questo senso Yoko Ono certamente ha contribuito molto al cambiamento di una figura che poi purtroppo ci lascerà molto presto, perché nel 1980, nell'ottobre 1980, John Lennon venne assassinato a New York, pensate aveva solo 40 anni. Ma torniamo ai lavori di Yoko Ono, torniamo ai lavori storici, la performance Cut Piece del 1964, dove lei si fa tagliare a pezzi il suo abito, il suo vestito, quello che di fatto protegge il corpo sociale della donna, oppure vediamo i lavori successivi, quelli che erano stati esposti appunto nella famosa Indica Gallery di Londra, dove lei conobbe appunto Lennon, che sono lavori di natura estremamente concettuale, di natura partecipativa anche. Chiunque può salire su questa scala guardare il cielo attraverso lo sky painting, cioè il quadro con i buchi che ti fa vedere appunto il cielo in alto, oppure decidere se dare una risposta, come se fossimo di fronte al libro dei Ching, sì o no a qualsiasi tipo di interrogativo. Ecco questo è un po' il mondo di Fluxus che Yoko Ono mette in scena. Ma artiste donne ce ne sono veramente tante che cominciano proprio a emergere in quello stesso periodo. Qui siamo all'inizio degli anni 60, tra l'altro un artista, Yoko Ono è ancora vivente, piuttosto anziana però è ancora vivente, John Jonas è un'altra artista in questo momento molto celebrata dal sistema dell'arte americano, è una performer che lavora, tra l'altro una delle prime che lavora in maniera trasversale rispetto ai materiali, possono essere video, possono essere performance, possono essere installazioni. Ecco il video per esempio, uno dei linguaggi, dei materiali che entra in maniera molto prepotente nell'arte degli anni 70, perché? Perché c'è appunto la necessità di testimoniare qualche cosa che è avvenuto, per esempio una performance, per esempio un'azione, per esempio un'operazione di body art, e che senza la riproduzione tecnica, che sia una fotografia o che sia un video, senza questo tipo di testimonianza non resterebbe traccia. John Jonas si muove un po' a cavallo tra la performance, la danza e l'arte concettuale. E in America sono diverse le artiste che lavorano anche sulla, come posso dirvi, sulla quotidianità del corpo, sulla necessità di parlare della propria vita, del proprio ruolo sociale, politico, culturale della donna, che cosa rappresenta la donna nel mondo del lavoro, che cosa rappresenta la donna nel rapporto con i media, come viene rappresentata dai media, come viene rappresentata da televisione, dal cinema, qual è il suo ruolo di madre, di moglie, all'interno della famiglia, all'interno della società. Ebbene, moltissime artiste, tra cui una di queste è Marta Rosler, un'artista che ha realizzato diversi video, anche ai limiti, voglio dire, della cattiveria, ai limiti della, come vi posso dire, dell'autoironia sarcastica, estremamente dura, anche con lo stereotipo del femminile. Marta Rosler, che poi tra l'altro è più di recente, negli anni 70, negli anni 80, negli anni 90, soprattutto, ha lavorato anche su un'idea di arte pubblica, ovvero l'arte che si trasferisce dalla vita quotidiana, dalle stanze della vita quotidiana, allo spazio condiviso, allo spazio della città, quello in cui tutti quanti passano e transitano. Ma tornando invece al discorso legato alla performance, che è un po' la chiave interpretativa per capire questi anni, direi che certamente uno degli esempi più incredibili, più straordinari degli anni 70, è legato all'incontro tra Marina Abramovic e Ulai. vale la pena di essere raccontato per sommi capi. Marina è un'artista che si è formata a Belgrado, la città in cui è nata, l'epera nata, è nata, la città, l'ex Jugoslavia, si forma in Accademia, come in quasi tutte quante le aree influenzate dal socialismo reale, è chiaro che si pratica una pittura un po' didascalica post-picasiana, lei capisce che non è quello il suo mondo, cerca di cominciare a realizzare delle performance, degli interventi di body art sul proprio corpo. Poi a un certo punto conosce Ulai, questo artista tedesco che vive un po' da nomade sul suo camper, spesso in Olanda lo raggiunge, cominciano a lavorare insieme, stanno insieme per 12 anni facendo della propria vita una vera e propria opera d'arte. E allora cosa succede? Che il grandissimo talento di Marina, ma anche la fisicità di questa donna, contrapposta alla fisicità altrettanto interessante del ragazzo, del giovane Ulai, sono, come vi dicevo, un elemento quasi che non si può sciogliere fino appunto all'ultimo lavoro che realizzarono insieme The Lovers, cioè l'idea di lasciarsi camminando simbolicamente ciascuno in una direzione diversa della muraglia cinese, ma in mezzo ci sono delle opere davvero molto molto importanti come imponderabilia presentata alla Galleria d'Arte Moderna di Bologna nel 77 durante la settimana internazionale della performance, ebbene Marina e Ulai si misero come si può vedere da questa immagine contro gli stipiti di una porta sostanzialmente a quasi bloccare l'ingresso delle persone in un'altra, nella stanza successiva, che erano costrette necessariamente a passare in mezzo, a sfiorare, non a sfiorare, proprio a entrare sostanzialmente attraverso i loro corpi. Pensate a una performance di resistenza, di fatica, di mettere alla prova un fisico che tra l'altro nel caso di Marina oggi ultra settantenne ma ancora estremamente fisica, estremamente allenata, anche grazie a una disciplina importante dal punto di vista proprio dell'alimentazione e dell'esercizio fisico. Marina Abramovic ha lavorato con Ulai, come vi dicevo, per 12 anni, 12 anni in cui sono stati insieme e spesso hanno lavorato su questo concetto appunto di resistenza, di un corpo sempre messo a rischio, di un corpo in qualche modo portato fino alle estreme conseguenze, come quella novello Guglielmo Tell di Ulai che tende la freccia puntata, tende l'arco dove c'è una freccia e questa freccia è puntata direttamente al cuore di Marina. Mettersi in gioco, vivere la pericolosità, che è una pericolosità del corpo intimo, privato, ma anche di un corpo sociale. C'è un lavoro che ormai ha quasi dieci anni, ma che forse è il lavoro più importante dell'ultima fase del lavoro di Marina, che a questo punto opera da sola, che nel 2012 per alcune settimane sta ininterrottamente al MoMA, New York, seduta con un tavolo, dall'altra parte c'è un'altra sedia, e le persone facevano la fila per andarsi a sedere davanti a lei, vestita di rosso, e a guardarla negli occhi, reggere lo sguardo dell'artista. Pensate a un lavoro che durava ore e ore tutto il giorno, pensate alla disciplina ferrea di questa donna, appunto, che guardava negli occhi il proprio interlocutore per qualcosa come sei o otto ore al giorno all'interno del MoMA. A un certo punto chi compare? Ulai, non si vedevano da tanti anni, si erano anche lasciati piuttosto male, anche per questioni di diritti legati ai lavori. Ulai, tra l'altro, è scomparso due anni fa, non stava già tanto bene. Questo incontro, indubbiamente, è un incontro pieno di commozione reciproca. Se andate a cercare su YouTube, ci sono dei video che testimoniano questi pochi minuti di loro due di fronte, dopo tanti anni che non si vedevano, come se la loro vita davvero fosse passata davanti ai loro occhi. Però, al di là del lavoro di Marina Abramo, che attualmente è considerata, certo, la body artista, la performer più importante al mondo, tra l'altro, è stata anche bravissima nel riuscire a portare un linguaggio così complicato e difficile come quello della body art verso una riconoscibilità, direi quasi pop. Ci sono artisti che hanno cominciato a lavorare negli anni settanta, come Orlan, performer francese che, appunto, in quel decennio si presentava davanti al pubblico inserita, per esempio, all'interno di una strana scultura dove si poteva inserire un franco e ricevere il bacio dell'artista. A un certo punto, lei negli anni ottanta e soprattutto all'inizio degli anni novanta, quando alla body art in qualche modo si sovrappone la questione del corpo inteso come reperto del post-umanesimo, cioè noi possiamo decidere di lavorare su noi stessi attraverso la chirurgia estetica, attraverso l'intervento di plastica, la liposuzione, tirarci sugli zigomi, aggiustarci i seni, glutei, eccetera, eccetera, donne, uomini, sia chiaro. Ebbene Orlan vuole trasformare il suo volto in una specie di opera d'arte con dei segni che non appartengono al sistema dell'estetica tradizionale ma che si rifanno proprio ad alcune opere d'arte dell'iconografia classica. E testimonia questo lavoro su se stessa, realizzato da una vera e propria equipe di medici, attraverso dei video a circuito chiuso installati all'interno della sala operatoria dove va in diretta, appunto, l'operazione sul suo viso, sul suo volto che dopo queste operazioni appare tumefatto. Se la incontrate per strada, certamente Orlan la riconoscete perché il suo volto ormai non ha età, è diventato una specie di, come si può dire, simbolo di un uomo, di una donna in questo caso assolutamente postumana. Artiste che hanno vissuto questo periodo in maniera molto molto intensa. Anna Mendieta, cubana, artista morta in maniera molto tragica, devo dire, purtroppo per lei, caduta dal balcone, da una finestra di un grattacielo a New York. Lei arriva a New York dopo essere stata sostanzialmente fuggita da Cuba, dalla Cuba castrista. Ebbene comincia a lavorare in maniera molto politica da una parte sul proprio corpo di denuncia uno dei suoi lavori più importanti, questo rape in cui lei sostanzialmente venuta a sapere che nella scuola dove studiava c'era stato un caso di sopruso nei confronti di una compagna di scuola, convoca all'interno di una stanza una serie di persone e si fa trovare con i calzoni abbassati e i glutei completamente ricoperti di echimosi e di ferite, il lavoro si chiama rape. Altre volte lei invece lavora con il proprio corpo nella natura, è una sorta di land art che diventa anche body art. Lei che in maniera ancestrale va a riconquistarsi il fango va a riconquistare la terra, la madre terra, che ha molto a che fare con questa visione, come vi dicevo, ancestrale della cultura. Ci sono artiste europee molto interessanti come Gina Pane, nome italiano ma francese. Gina Pane, morta anche lei piuttosto giovane per una malattia e un artista che ha portato su di sé i segni per esempio dell'iconografia classica ma senza più rappresentarli. Pensate a un San Sebastiano trafitto dalle frecce, pensate a un corpo graffiato, punto, sfregiato da chiodi, da pezzi di vetro. La fuoriuscita del sangue che sempre ha a che fare con il ciclo mestruale, con la fecondità della donna in età giovane e che spesso alcune società davvero leggono come un tabù, viene portato alla luce in queste performance violente da una parte ma estremamente, come vi posso dire, anche delicate dall'altra di quest'artista, indubbiamente molto molto importante, a cui si può aggiungere per esempio il lavoro invece, forse da parte opposte, di un artista austriaca che si chiama Vali Export, è un nome che prende tra l'altro da una marca di sigarette che negli anni, quindi un nom de plume, un pseudonimo davvero, che realizza una serie di operazioni molto dure, tipo a un certo punto si presenta vestita di pelle nera, completamente vestita di pelle nera con la patta aperta dei pantaloni, qui si vede appunto l'organo genitale e un fucile in mano, si presenta all'interno di un cinema pornografico, ovviamente frequentato da soli uomini e questa sua intrusione, questa sua irruzione vera e propria, armata ma con il sesso in vista, creò davvero una sorta di, come dire, circolo, cortocircuito linguistico tra ciò che le persone stavano guardando sullo schermo e ciò che lei presenta, insomma, sono diverse le artiste che lavorano appunto sul corpo, sul corpo violento, altre che invece lavorano in maniera un pochino più delicata, come Anna Maria Maiolino, che è un'artista di origine italiana ma assolutamente legata al Brasile, quindi siamo la terra dove lei è cresciuta e ha sviluppato il proprio lavoro d'artista, ecco, è un'artista anche lei che ha spesso utilizzato la performance come linguaggio, un'artista che ha continuato a lavorare sull'indagine del proprio corpo però con una questione in più, coinvolgendo altre persone, come se la performance stesse virando verso una nuova dimensione che sarà poi molto più presente negli anni recenti, negli anni 90, ovvero la condivisione, la performance come elemento che unisce il lavoro di artisti e di altre persone quasi che si stesse stabilendo una vera e propria estetica relazionale. Sono artisti che hanno un pochino di più il senso del teatro, mentre un'altra artista assolutamente da riscoprire, anzi nei confronti dei quali esiste una vera e propria attenzione oggi particolare, Simone Forti, che adesso vive, una signora anziana che adesso vive a Los Angeles, ma che è un'artista italiana a tutti gli effetti, che già negli anni 60 e negli anni 70 lavorava con questa specie di legame tra l'arte, il teatro, la danza, performance in cui liberava il proprio corpo, performance in cui volteggiava, se volete, anche in riva al mare, cose davvero molto molto intense. In Italia ci sono delle artiste, delle figure molto vicine al mondo del femminismo militante. La giovane Chetty La Rocca, anche la scomparsa giovane, purtroppo in un'età decisamente prematura, che ha lavorato sia sulla performance ma anche sul linguaggio, per esempio il linguaggio espressivo delle nostre mani. Noi spesso quando parliamo, muoviamo le mani. Questo muovere le mani si porta dietro un certo significato. Che cosa significa questo linguaggio? Dove si va a direzionare? Chetty La Rocca è un artista indubbiamente molto mentale, un artista estremamente intelligente, che è stata in qualche modo ascritta, vicina al mondo della poesia visiva, che è una neo-avanguardia degli anni 60, che in Italia ha visto il coinvolgimento anche di personalità del mondo della letteratura e della scrittura, tra cui Umberto Eco, per esempio. Partendo appunto dalle consuetudini, dalle regole interne del linguaggio, lei ha portato avanti una serie di riflessioni tutte interne all'arte, per esempio, come vi dicevo prima, da come si muovono le mani, da cosa vogliono dire le mani, cosa vogliono dire le nostre abitudini gestuali quotidiane. Continuando sempre a parlare di donne e di artiste donne in Italia, anche qui il processo di rivalutazione di questo momento, che vorrei dire è legato al movimento femminista, chi più chi meno. Pensate per esempio a Tommaso Binga, che è una donna che porta il nome da uomo e che è una signora ancora attiva a Roma, che in realtà è stata la moglie di Filiberto Menna, uno dei più importanti critici d'arte romani degli anni Sessanta, che lavora appunto su questa ambiguità semantica, nome da uomo e nome da uomo in realtà è una donna, appunto anche lì, tra la letteratura, la poesia, il teatro, la performance eccetera. Altre artiste molto interessanti sono Carla Mattioli o Libera Mazzoleni, di cui per esempio esiste una serie molto molto bella, molto poetica, il bacio, in cui si baciano delle donne. Oggi non è più assolutamente ritenuto a uno scenità che due donne si possano baciare anche in pubblico. All'epoca il bacio diciamo omosessuale, anche se qui secondo me non andiamo molto in quella direzione, assolutamente, perché non è un manifesto gay-lesbian assolutamente, ma è proprio quello spostamento della ritualità eterosessuale tra uomo e donna, invece in un gesto di estrema tenerezza appunto tra due donne. Lei spesso ha lavorato sul rovesciamento degli stereotipi così come vengono presentati dalla, chiamiamola, storiografia maschile. Protagonista certamente di questa vicenda da un punto di vista culturale, anche di aver tenuto insieme tante storie e una critica militante. Se negli anni precedenti a questa puntata avevamo citato sia Margherita Sarfatti come la prima critica d'arte donna che durante il regime fascista aveva in qualche modo aiutato allo sviluppo dell'arte italiana. Abbiamo parlato di Lea Vergine, autrice di quella memorabile che mostra l'altra metà dell'avanguardia, non possiamo disconoscere il ruolo fondamentale di Carla Lonzi, intellettuale, militante, vicino all'arte ma in generale alla cultura che è stata una delle protagoniste principali del movimento femministe in Italia ed è stata anche una delle prime a leggere l'arte contemporanea in chiave femminile. Certamente una figura da non sottovalutare. Torniamo invece dall'altra parte dell'oceano e andiamo in America. Anche qui ci sono delle donne toste, aggressive, che hanno lavorato in maniera estremamente dura con il proprio corpo, spesso beccandosi vere e proprie accuse di oscenità come nel caso di Karaol Schneeman, una performer molto esplicita che non esita a spogliarsi nuda, non esita soprattutto a utilizzare il proprio corpo come se fosse un materiale, un vero e proprio materiale su cui possono andare animali, liquidi organici, lo sporco, la carne, il sangue, il sesso. È un lavoro che indubbiamente negli anni 60 e 70, quando lei volendo anche mettere un po' in luce la possibilità di varcare il limite, appunto cerca di inscenare delle, anzi non cerca, in scena delle performance davvero estremamente dure. Dove ovviamente poi non si può, non sottolinea anche un certo spirito vuoiaristico nei confronti soprattutto del pubblico maschile quando almeno lei si rivolge, perché comunque il corpo della donna ha sempre questa doppia, se vogliamo, questa doppia valenza. Da una parte la provocazione del corpo nudo, dall'altra parte anche l'ammirazione, lo sguardo che si posa sul corpo nudo. Giù di Chicago non si può definire una performance to cure, una performer to cure e anche pittrice, anche autrice di lavori che mescolano l'elemento decorativo della pop art con invece delle costruzioni sessuali molto evidenti, molto esplicite, che pure si mimetizzano intorno ai colori, intorno a questi mandala estremamente divertenti, estremamente colorati. Ricordo che una delle sue operazioni più oltraggiose fu una pubblicità su Art Forum, uno spazio pubblicitario su Art Forum dove lei si mostrava con un grande fallo di gomma, che è una pubblicità che poi è diventata storia ma che all'epoca indubbiamente fece piuttosto scalpore. Ecco, molte artiste femministe decidono di sfidare tra virgolette l'andamento placido di una certa arte per uomini con appunto l'oltraggio di un corpo esibito. Dorotì Iannone, artista che adesso gode di una grande stima da parte del mercato, invece ha sempre lavorato prevalentemente, anzi ha lavorato con la pittura, una pittura molto decorativa anche per certi versi divertente, ironica, sarcastica, però poi tu la vedi bene, ti avvicini e ti rendi conto che sono pitture che parlano molto delle donne, che parlano molto appunto dello stereotipo di come la donna si vede o si fa vedere all'interno della società contemporanea. Stiamo parlando proprio di un periodo della storia dell'arte e in generale della storia della cultura dove il movimento femminista e di conseguenza tutte le declinazioni dell'arte al femminile in realtà non sono univoche, non sono tutte quante dirette verso la body o verso la performance ma toccano anche delle espressioni più legate alla pittura, come nel caso di questa straordinaria pittrice che invece è molto più legata a degli stereotipi precedenti che insomma arriva lunga, viene conosciuta, viene stimata solo più tardi dal mondo della critica ovvero a Alice Neel, ma qui siamo davvero in tutt'altro senso ma se guardate bene anche in questo caso che siamo su un quadro assolutamente tradizionale il tema della maternità viene vissuto in maniera rovesciata rispetto a ciò che di norma noi ci portiamo dietro non come il momento bello nella storia di una persona, la procrezione, ma il corpo che si smonta, il corpo che diventa abnorme, il corpo difficile anche da gestire. Non tutte le donne vi dicevo parlano di questo. Ci sono anche delle artiste che sono, non dico indifferenti, ma si muovono in altri ambiti. È il caso per esempio di un artista inglese, Bridget Riley, nota come una delle principali esponenti dell'optical art, tra l'altro i suoi quadri sono costosissimi e è considerata una degli artisti più cari al mondo, ormai da diversi anni. Bridget Riley ha dipinto sostanzialmente alcune tra le più belle tele di questa arte optical, quindi con degli effetti visivi assolutamente psichedelici e stroboscopici e forse di quel movimento è stata una delle interpreti più interessanti e più originali. È un'arte che ovviamente va dietro le ricerche dell'astrazione, va dietro tutta la questione della gestalt, della percezione, che ha a che fare certamente sì con un ritrovato interesse nei confronti dell'arte al femminile, ma che non è direttamente implicata dentro i meccanismi della performance o della body art. E un discorso analogo si può fare per esempio per Agnes Martin, pittrice delicatissima, che per certi versi è stata identificata, forse non più che identificata, è stata unita al mondo del minimalismo americano. Pensate a un pittore per esempio come Robert Ryman o Robert Mangold, che sono pittori estremamente colti, raffinati, delicati, eccetera. Ebbene, Agnes Martin è pittrice di grandissimo talento, ma anche di grande rigore, considerata una grandissima esponente di quell'arte del minimalismo americano, anche questo un po' più praticato dai maschietti, ma al cui interno le ricerche, indubbiamente molto rigorose, molto, come vi posso dire, anche originali, di una pittrice completamente dedita ad un colore che va verso il misticismo, che va verso una ricerca di interiorità, che indubbiamente non ha a che fare in maniera diretta con le battaglie politiche e culturali del corpo al femminile. Ma non per questo, a mio avviso, è meno interessante. E venendo per esempio in Italia, proprio all'inizio degli anni Sessanta, ci sono delle artiste donne che cominciano a farsi notare nel mondo appunto della neoavanguardia, soprattutto a Milano, devo dire. Pensiamo a Nanda Vigo, scomparsa di recente, pensiamo soprattutto a Grazia Varisco. Sono artiste che lavorano per esempio sul cambiamento molto, molto importante della pittura, sono un pochino tutte quante, in qualche modo debitrici alla lezione di Lucio Fontana. Però, quel che è certo è che il loro lavoro non ha una componente diretta nei confronti delle poetiche femministe. Va in tutt'altra direzione, va verso una riflessione più formale, più legata all'arte come concetto. E il fatto che esistano delle donne che siano così molto attive anche in un mondo, quello della pittura, tendenzialmente maschilista, è decisamente interessante. Tutto ciò per dire che cosa? Che se il grande cambiamento che noi abbiamo visto appunto negli anni Sessanta, soprattutto negli anni Settanta, legato alla politica e alla società che muta, che si rinnova, negli anni Ottanta troverà altre ragioni, altri spazi. E sempre di più le artiste sono destinate, le artiste donne, a presentarsi in maniera decisa, non voglio usare il termine aggressivo che è veramente troppo troppo maschile, però in maniera decisa, portando una loro tematica culturale ed estetica davvero interessante. Cito in particolare per chiudere questo discorso e rinviarlo poi agli anni Novanta, che saranno di nuovo forse un periodo particolarmente interessante, l'esperienza di alcune artiste che per esempio introducono nella loro poetica la fotografia. La fotografia è certamente uno dei linguaggi contemporanei nuovi che sta avendo finalmente la dignità di un linguaggio artistico che non ha ovviamente ancora la maneggevolezza della fotografia quotidiana, ma che è certamente uno strumento per poter lavorare anche in maniera molto, come posso dire, apparecchiata sull'immagine. Cindy Sherman già alla fine degli anni 70 elabora un ciclo di opere che si intitola Untitled Film Stills, ovvero frammenti, inquadrature di film senza titolo, che di fatto non esistono, ma che ripercorrono tutti quanti gli stereotipi del cinema in bianco e nero, del cinema classico americano, dalla commedia al western, dal thriller al film in costume, dall'horror alla commedia erotica, dove lei diventa protagonista di un film che non esiste, assumendo proprio i panni di una fantomatica eroina, di una fantomatica protagonista che lavora appunto, che sta dentro il film, dentro un film che appunto non c'è. Poi negli anni 80 il lavoro continuerà e si svilupperà attraverso trasformazioni del proprio corpo con un trucco da effetti speciali, che ricorda davvero il cinema degli effetti speciali, che negli anni 80 imperversò davvero, dove Cindy Sherman diventa personaggio, diventa sempre di più protagonista di una quasi postumana ridefinizione del sé, attraverso appunto questo trucco anche pesante, che la fa assomigliare alle icone della storia dell'arte, che la fa assomigliare a personaggi del mondo dei media, insomma, ogni volta lei prende i panni di qualcun altro, ed è un lavoro estremamente importante, quello di Cindy Sherman, nell'ambito di quella che normalmente viene definita come stage photography, cioè quindi una fotografia apparecchiata, una fotografia da palcoscenico, dove non c'è niente dell'istantanea. Un'altra artista che in quegli anni emerge, e che viene fuori è Barbara Kruger, lei ha una esperienza, sviluppa un'esperienza in ambito di ricerca editoriale, giornalista, grafica, lavora sull'immagine di alcune riviste, insomma fa l'hard director per dire, di alcune riviste, e capisce una cosa, di quanto in realtà ci sia una profonda discrasia tra l'immagine che i media danno della donna e i messaggi che vorrebbero dare, appunto siamo già nella New York degli anni Ottanta, che vorrebbero dare del consumismo, del rapporto tra il corpo e l'oggetto, tra la moda e il consumo, tra l'estetizzazione, a cui il nostro corpo in qualche modo è chiamato, è invece un senso più etico. Allora lei utilizzando delle immagini assolutamente già esistenti, preesistenti, come nel caso per esempio di un ritratto di Andy Warhol, che muore nel 1987, ma che è stato ancora uno dei principali interpreti della cultura americana degli anni Ottanta, vi dicevo appunto che, prendendo delle immagini che già esistono, cambia segno e di conseguenza anche significato, partendo proprio dalla sovrapposizione di una scritta, di una parola che depista. Oppure un'artista molto interessante come Sherry Levin, che fa parte del cosiddetto micromovimento dell'appropriazionismo, ovvero appropriarsi di qualche cosa, in questo senso è molto vicino a Barbara Kruger, di qualche cosa che già esiste, come una fotografia già scattata, la famosa fotografia di Dorothea Lange o di Walker Evans, degli anni della crisi economica in America, che lei rifotografa per risensibilizzare sostanzialmente il suo tempo rispetto appunto a dei drammi che non hanno età. Appropriarsi delle cose, non fare, non produrre altre immagini, non esercitare il ruolo di artista originale, ma essere diversi. Bene, concluderei questa chiacchierata di oggi parlando invece di un lavoro tragicamente spezzato come quello di Francesca Woodman, un'artista americana che è passata anche in Italia per poco tempo, poco tempo perché lei è morta davvero giovanissima, aveva solo 23 anni, quindi un'artista che avrebbe potuto dire ancora tantissimo rispetto al suo lavoro, al suo sviluppo, alla sua intelligenza e al suo talento. Una vita spezzata, purtroppo tragicamente Woodman aveva lavorato sul suo corpo in una dimensione però più domestica, più intima, più privata, anche più lacerata. Un dramma che indubbiamente non ha molto a che fare col dramma sociale delle artiste dei primi anni 70, ma che segna davvero un momento diverso. Questa specie di intimismo, questa grande sofferenza anche personale dell'individuo, sia uomo, sia donna, che certamente è un po' il contraltare di una società invece tutta lustrini, dollaro e spettacolo degli anni 80. Grazie.